Tutorial Tuck Sit Races, esercizio per allenare l'addome complementare per l'Hell Sit. Questo esercizio prevede l'ausilio di una coppia di parallele a altezza minima 70 cm. Mani larghezza poco più delle spalle, con pollici in opposizione, scapole depresse, piegare le ginocchia unite portando le cosce a formare un angolo retto con il tronco, controllando il movimento. Per rendere l'esercizio leggermente più difficile è possibile portare le ginocchia più verso il petto senza inclinare il tronco. Se è difficile invece seguirlo poggiando gli avambracci sulle parallele, inspirare nella fase discendente ed espirare nella fase di risalita delle gambe.